Comissario Valerio Di Leo. Cazzo! Si calmi, avvocato. Mi sembra che lei abbia dei problemi più impellenti da risolvere al momento. Ma di che parla che vuole da me? E di parla. Noi siamo a servizio dei cittadini onesti come lei. Però i bravi cittadini devono darci una mano. Per permetterci di aiutarli. E che devo fare? Che vuole da me? Mi risulta che lei era in intimità con Maya Corapi. L'avete convissuto per anni. Sì. Sì, è una storia vecchia. Tempi dell'università, allora. Lo so, lo so, lo so. E so anche che il marito della Corapi ora è in carcere e ci resterà per molto tempo. E che lei è appena andato a farle visita. E allora? Semplice consulto tra avvocati, che vuol dire? E com'è andato il consulto? A me non me ne frega niente se i cento milioni li ha presi lei o se la sua amica Hacker l'ha fottuta. Ma se non si lascia aiutare un uomo morto. Che vuole in cambio? Deve riallacciare i suoi rapporti con Maya Corapi. Non mi sembra un sacrificio enorme. Diventi i miei occhi e i miei orecchi nel clan Corapi. E io lo terrò al sicuro dagli scarpò. Abbiamo finito? Posso andare? Per il momento. Ma ci pensi? E provi a restare vivo.